Siamo tutti in attesa del gol del Napoli, formazione azzurra che sta insistendo, ci prova Flora Flores dalla destra, parte in velocità a cercare di superare l'avversario, entra bene in aria Flora Flores, traversore, sottoporto, una mischia del rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Giannigi, 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 Fred Davide, Giannigi, gonfia la rete, Davide Giannigi ha gonfiato la rete al trettimesimo minuto di questo secondo tempo, Napoli 2, salernità da 1, applausi anche a Flora Flores. Grazie a tutti.